Puoi venire un attimo a Esposito? Mi hai detto che quell'ex commissario difendeva una sua cugina? Già, abbiamo provveduto a rintracciare la ragazza e a quest'ora sono all'aeroporto per il rimpatrio. Ah, Esposito, assicurati comunque che i ragazzi siano partiti regolarmente. Telefono subito alla polizia aeroportuale per la conferma. Va bene. Ho capito, vado in provincia per quella riunione benedetta. Che è di servizio oggi? Marini e Belli. Marino non è malato, vero? No. Si è ringraziato il signore. Ah, a proposito, Marini e Belli sono usciti urgentemente. Una signora ha denunciato uno stupro. Allora! Allora! C'è il nostro corso gratuito. Grazie a tutti. Aiuto! 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 L'Unturi, l'Unturi è in pericolo. Pensate all'Unturi. Stia calma, non si preoccupi. Un'ambulanza al 115 di Roma. L'Unturi, è in pericolo. È in pericolo. È in pericolo, L'Unturi. È in pericolo. Non. Non.